Prendono corpo progettualità che tendono a fare della natura occasione di sviluppo e valorizzazione dell'ambiente. Sono i comuni a fare squadra creando progetti per promuovere il territorio. In Abruzzo 7 milioni di euro provenienti dal PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono impegnati per la Green Community. E' quanto evidenziato oggi a Pescara il vicepresidente della regione con delega ai parchi e all'ambiente, Emanuele Imprudente presentando, alla presenza del consigliere regionale neodeputato Guerino Testa, il progetto Fra Storia e Memoria, itinerari culturali sostenibili nel Parco Nazionale della Maiella, proposta progettuale per la realizzazione dell'Ecomuseo Valle dell'Orta. Ammontano oltre 2 milioni di euro i fondi a disposizione per realizzare il progetto che vede lavorare in sinergia i comuni di Bolognano, Caramanico Terme, Rocca Morice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemmia Maiella, Tocco da Casauri e Salle, che è capofila del progetto elaborato e coordinato dall'architetto Mario Mazzocca, ex assessore regionale e già sindaco di Caramanico Terme. Abbiamo sfruttato la possibilità che ci dava lo stesso strumento finanziario europeo, nel quadro programmatico, di questo bando, questo avviso pubblico uscito per le Green Community. L'utilizzo razionale e migliorativo di tutte le risorse endogene, dal patrimonio naturalistico a quello storico architettonico, a quello archeologico e a quello in generale paesaggistico, per mettere in rete tutte queste peculiarità e renderle produttive in un primo step verso la creazione di una Green Community, in un secondo, a cui stiamo già lavorando, nella realizzazione di una comunità energetica allargata, visti i tempi credo che non sia assolutamente secondario. I sindaci di Bolognano e di Rocca Morice, Guido di Bartolomeo e Alessandro Dascani hanno spiegato che saranno tante le iniziative che consentiranno di far scoprire al territorio l'identità storica, artistica e culturale di tutte le aree coinvolte della provincia di Pescara. A livello Abruzzo è stato il primo e il secondo finanziato come PNRR, con queste caratteristiche, dove noi, come territorio di Bolognano, abbiamo messo a disposizione una struttura di ricollegare come centro di raccolta per il percorso dell'eco-museo diffuso. Vorrei sottolineare la capacità di collaborazione dei piccoli comuni al di là di ogni campanile che si è attivata ancora prima di questo importante bando del PNRR. Abbiamo lavorato, abbiamo sottoposto a valutazione un progetto di dettaglio, di avanguardia e siamo contenti di poterne giovare finalmente.